Notte scura, c'è una tetra atmosfera, niente spumante, solo barbera. Angelo Comiti, sindaco di La Maddalena, una città particolarissima che sta dentro un arcipelago composto da circa 60 isole. La Maddalena è sede di un parco nazionale, è stata la sede mancata del G8. È una città che è in fase di riconversione economica perché si sta cercando di passare da un'economia militare e da un'economia turistica che abbia l'ambiente come volano principale dello sede. Abbiamo bisogno di un'associazione come Lanci. Credo che i comuni sardi alla Sardegna possano dare un contributo dentro questa associazione l'importante è farla finire gli obiettivi che progettivano, che si sono in qualche modo, chissà. La Maddalena è sede di un'associazione come Lanci.